Ciao, sono Paolo Linetti, aderisco all'iniziativa Ci vediamo da noi. Parlo da Brescia, che è uno degli epicentri di questa epidemia, e vi parlerò di una delle mie passioni, che è l'arte giapponese. Dirigo un piccolo museo nella Francia Corta di arte giapponese, e quando parliamo di arte giapponese normalmente pensiamo a un'opera, che è la principale, che è la grande onda di Okusai, questa onda blu gigantesca che è diventata proprio iconica oramai del Giappone. Per quanto riguarda l'onda di Okusai, l'originale è del 1829, è stata fatta da il genio dell'Oriente, che è appunto Okusai Katsushika, e è stata fatta con matrici legna, quindi si tratta di stampe, fatte in più numero, e fra le curiosità è che fa parte di una serie che si chiama Le 36 vedute del Monte Fuji, dove Okusai ha ritratto in tutte le opere il Monte Fuji, ma fatta da diverse angolazioni. Un'altra curiosità è che per la prima volta nelle stampe giapponesi viene utilizzato il blu di Prussia, che veniva dall'Occidente, e che era questo blu molto carico, che era inedito per i giapponesi, per cui era veramente impattante. Quando è uscita l'edizione è stato l'editore che ha deciso che fosse quella rappresentativa e la prima stampa della collezione per colpire maggiormente gli acquirenti, tant'è che era stata pubblicizzata dall'editore come stampa in blu inizialmente. Ma adesso andiamo a conoscere meglio questa stampa. Prima di tutto dobbiamo fare un'opera che è di scollarci dal modo con cui gli occidentali vedono un'opera d'arte, cioè vedendo il punto centrale e poi ammirandone in particolare. I giapponesi sono abituati a una forma d'arte che sono invece quelle degli emakimono, cioè dei dipinti su rotolo. Quindi normalmente un giapponese srotola con il lato sinistro e riavvolge con la mano sinistra, quindi vede scorrere le immagini che vengono via via riavvolte. Quindi normalmente un giapponese quando guarda un'opera d'arte, anche piccola, guarda sempre da destra e poi si sposta verso sinistra. E così noi dobbiamo fare per capire quest'opera. Adesso andiamo a vederla più nel dettaglio, quindi prendo in mano la situazione. Allora, vedete, noi qua ci troviamo con il protagonista della serie che è il Monte Fuji, che è qui piccolo e vedremo dopo perché è così piccolo. Poi vediamo come se fosse una scena teatrale, abbiamo i protagonisti umani che sono i pescatori, che come vedete sono qua sdraiati. Al momento non sappiamo se stanno dormendo, se stanno riposando, se stanno pregando. Semplicemente sono fermi in attesa. Poi vediamo il Monte Fuji, che come vi dicevo è il protagonista della serie, ma qua funge da quinta teatrale. Quindi qua è uno spettatore immobile di quello che sta accadendo. Poi è piccolo e vedremo dopo il come mai, ma proprio per ricordare che è in realtà il protagonista, qua vediamo che c'è quest'onda che è conica, che funge come ecovisivo. Quindi il Monte Fuji viene riproposto qui, in quest'onda. E poi abbiamo, vedete, grande qui, un'onda gigantesca che è l'antagonista, ma in realtà la forza del protagonista. Quindi a questo punto noi capiamo quello che sta succedendo. Noi muovendoci da destra verso sinistra veniamo travolti dalla grande onda insieme ai pescatori, vedete. Il Monte Fuji è piccolo anche perché rappresenta la fonte di salvezza. Quindi la fonte di salvezza che è la terra, la terra fissa e immobile, è in realtà lontanissima. Quindi secondo una delle fonti di Opusai che diceva che la forza della natura è talmente forte e grandiosa e l'uomo non può nulla contro di essa, questi pescatori, consci di questo fatto che non si potranno mai opporre un'onda così grande, aspettano in maniera fatalistica quello che sarà dalla loro vita. Quindi quando vediamo quest'opera che è veramente bellissima, dobbiamo renderci conto che il messaggio in realtà è un po' pessimistico. Quindi questi pescatori sono abbandonati a loro stessi. In più, se vedete la massa dell'acqua in contrasto al cielo, noi otteniamo un'immagine di questo tipo, vedete. Qua vi ho preparato un'immagine di Photoshop che si trova in internet. Vedete, in questo caso noi otteniamo un yin e yang, cioè sono le due forze contrastanti della natura che si stanno contrapponendo al centro del quale immobile è l'uomo, quindi non può apporsi alle forze cosmiche. C'è un'altra cosa da dire, che secondo Okusai la forza della natura era maggiormente rappresentata dalla maestanza, dalla potenza dell'acqua. Nella cultura giapponese l'acqua, l'elemento dell'acqua, è correlato al drago. Quindi questa bestia mitologica che secondo la cultura giapponese sta in un palazzo in fondo al mare. E poi da questo palazzo, quando esce velocemente, troppo rapidamente verso il cielo, sposta una massa d'acqua talmente grande che crea uno tsunami. Quindi Okusai, nello studio di quest'opera, ci ripropone il drago. Dove? Allora, dovreste vedere prima di tutto come sono i draghi di Okusai, che sono dei draghi con delle sopracciglia molto folte, il naso parallelo alla colotta cranica e poi questo muso con la barba. Quindi, vedete, questo dovete immaginarvi come la fronte del drago. Qua abbiamo le sopracciglie, il naso con le onde parallele e poi qua abbiamo il muso con tutti i bargigli. E abbiamo anche un artiglio. In questo momento vediamo che la forza dell'acqua che ricorda il drago che velocemente va verso il cielo, sta creando uno tsunami sui pescatori. Questa forma dell'avventarsi in questa maniera così grandiosa Okusai la presenta anche in altre opere, vedete, come in questa. Questo è un quaderno manga di Okusai e vedete, in questo caso c'è un fantasma, ma se noi paragoniamo quest'onda con l'artiglio a questo fantasma abbiamo la stessa geometria e lo stesso tipo di composizione. Non solo, quest'opera, come vi dicevo, ebbe così tanto successo che l'editore di Okusai chiese Okusai di fare subito dopo, cinque anni dopo, un'altra serie, però 36 stampe non bastavano qui, quindi gli chiese 100 vedute del Monte Fuji, che vedete, questo è il catalogo di Pavia, che possiamo vedere qui e se questa è un'onda distruttiva, cinque anni dopo fece un corrispettivo che invece è questa, che è un'onda quasi speculare all'altra ed è un'onda costruttiva, ma il motivo del perché questa è un'onda costruttiva me ne parlerò un'altra volta. Vi saluto e in bocca al lupo a tutti. Ciao!